Arriva il Natale! E tu che fai? Non li apri? Fallo entrare in casa tua! Basta una stella, basta un po' di colore o un po' di calore. Basta passare da Flor Vivai, su strada Ghisiolo per Tripoli, alle spalle dell'Ipercop La Favorita. Flor Vivai, quelli che accendono il tuo Natale.